Grazie a Lucia che diventerà una grandissima comunicatrice, si vede già. Questo servizio è chiaramente in collaborazione con il Comune di Modena e con il Stato Comprensivo 6 e questo è giusto ovviamente dirlo perché è grazie a loro che riusciamo a fare questo tipo di servizio. Ora cominciamo a vedere i progetti nuovi, ma prima di farlo chiederei al Direttore Generale di presentare il primo dei nostri ospiti. L'ho detto già in parte prima, ma mi fa veramente molto piacere avere qua il professor Antonio Barretta perché il lavoro che lui ha fatto in questi anni sull'azienda senese è un lavoro di grandissima partecipazione. La partecipazione che ha riguardato i pazienti, i familiari, le associazioni. Quindi è un qualche cosa che ha bisogno e sicuramente ha il valore di essere presentato qua e darci la possibilità di collaborare in un prossimo futuro insieme perché questo è quello che spero. Prego Antonio. Buongiorno a tutti e a tutte. Ringrazio il Direttore Generale Vagnini, la Dottoressa Doronzo per questa ospitalità. Per me è un piacere e un onore essere qui con voi perché stiamo affrontando un percorso comune, unitario, pur avendolo scoperto dopo averlo avviato. Ora ci farebbe piacere invece confrontarci, scambiarci prassi, è gratuito, si migliora insieme, si possono ricevere spunti. Qualche giorno fa Modena è venuta a Siena e abbiamo fatto fare anche un'esperienza immersiva in una delle nostre esperienze di convolgimento del volontariato che comunque rappresenta il sottotitolo e sempre l'umanizzazione delle cure e oggi sono felice di essere qui con voi e sono felice di aver ascoltato, visto, ho già alcune cose da scopiazzarvi e adeguare al nostro contesto. Io non penso di poter aggiungere nient'altro di efficace e utile a spiegare il perché. L'ha già detto Claudio in maniera molto puntuale e precisa. Assumere il punto di vista dell'altro è fondamentale. C'è anche un testo, molti di voi l'avranno letto, scritto da medici che si sono ammalati, non ci sono più, dall'altra parte, è un testo che io ho letto e mi ha molto emozionato. Io non sono un medico, io sono un economista aziendale, dal cuore tenero però, quindi non vado solo al bilancio, il bilancio per me è un vincolo che dobbiamo rispettare, penso come per Claudio, per il dottor Vagnini, ma non è l'obiettivo di quello che noi facciamo e l'obiettivo non è solamente la qualità tecnica di quello che fanno i professionisti, ma anche la parte relazionale, che vale tanto quanto, voi lo sapete meglio di me, rispetto alla parte tecnica. Qui in questo lucido, un po' rappresentato gli obiettivi del progetto, mettere al centro il paziente e il volontario, io spesso, ascoltando i colleghi, mi scuso con i medici presenti, i professionisti presenti, ma sento usare la parola paziente, 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 paziente. Poi si scava nelle parole, si scava nei contenuti e il paziente non c'è, ci siamo noi, non c'è l'altra parte, c'è il nostro punto di vista. E allora un segnale, il ragionare sulla umanizzazione delle cure, è che nel mio ospedale c'era già, sparsa in tanti contesti, in tante realtà. Noi molti dei progetti, noi abbiamo portato, non so dove l'abbiamo appoggiato, ma si trova anche sul sito della nostra azienda, il nostro progetto che raccoglie tutti i progetti, al momento sono 35, 36, non ricordo con esattezza, molti di questi esistevano già. Noi li abbiamo messi a sistema, li abbiamo messi dentro un framework unitario per ricordarci costantemente il nostro reale motivo di esistere, che sono i pazienti e sono i loro familiari. Non siamo noi stessi, non è il nostro punto di vista. Vabbè, non voglio farla lunga, voglio dire che noi abbiamo anche una giornata dedicata a questo progetto che si svolge 365 giorni l'anno ed abbiamo scelto, anche se purtroppo non siamo mai riusciti a celebrarla l'11 di febbraio, abbiamo scelto l'11 di febbraio, ma la giornata del coinvolgimento nel 22 c'è stato il terremoto, per fortuna lievi scosse a Siena e nel 23 cascava di sabato e domenica, allora abbiamo scelto altri giorni. Probabilmente il prossimo anno finalmente sarà celebrata l'11 di febbraio e Modena è invitata sin da oggi a questo evento, perché è un evento in cui noi celebriamo i nostri tanti progetti. Noi non usiamo i desk che avete usato voi, usiamo, lo vedrete fra poco, i poster. Abbiamo adottato più una modalità scientifica, ma la conclusione della giornata è il racconto di esperienze di altre aziende per contaminarci, per scambiarci le buone pratiche. Qui ho articolato un po' le varie iniziative, ma insomma non voglio entrare in tassonomie noiose, e quindi voglio raccontarvi alcune esperienze. Noi abbiamo il comitato di partecipazione, voi avete il PUV, penso sia un po' l'equivalente, lo prevede la norma, ma tante cose prevedono la norma e poi stanno là. Sono 25 associazioni che rappresentano vari pazienti e noi con loro facciamo tantissime iniziative. La direzione aziendale le incontra periodicamente, una volta al mese, una volta ogni due mesi, comunque almeno sei volte l'anno noi ci incontriamo per dare anche un segnale dell'importanza che per noi ha il comitato di partecipazione. A destra vi ho voluto rappresentare una nostra delibera aziendale. La nostra delibera aziendale ha stabilito, questa è una delle tante iniziative che noi abbiamo col comitato di partecipazione, che i nostri PDTA, prima di essere approvati, siano discussi, illustrati, al comitato di partecipazione per ricevere il punto di vista del paziente. E dovremmo, ancora non l'abbiamo fatto, ma la delibera lo prevede, trasformare anche il PDTA in termini comunicativi per i pazienti. Perché il PDTA discute, è un documento per i professionisti, ma non per i pazienti. E questa è una prima iniziativa. Un'altra iniziativa che noi abbiamo col volontariato sono le agorade della salute. Sono dei momenti in cui sono appuntamenti, aperti alla cittadinanza. Qui ne vedete uno su un tema di assoluta importanza in questo momento, all'onore delle cronache tutti i giorni, che il tema dell'Iste è attesa, è lo stato dell'arte riguardante lo stato dell'arte e le proposte di miglioramento. In queste occasioni il pallino in mano è al comitato di partecipazione. L'azienda dà supporto dal punto di vista tecnologico, spazi, informazioni, contenuti, ma è il comitato di partecipazione che stabilisce l'agenda, di cosa vogliono parlare, cosa vogliono approfondire. Io penso che spiegare ai cittadini che cos'è il pronto soccorso in un momento in cui dentro ci sono 70 codici bianchi e 20 codici rossi e spiegargli che in quel momento probabilmente il codice bianco aspetterà tanto e perché aspetta tanto penso che serve anche a rendere più sopportabile un'attesa che altrimenti il cittadino, il paziente non comprende. Quindi abbiamo l'agora della salute. Un'altra iniziativa che noi abbiamo lasciando perdere a sinistra è il fatto che noi esaminiamo periodicamente, trimestralmente, facciamo un'analisi dei reclami, discutiamo anche con il comitato di partecipazione o con i professionisti dei reclami anche se non è il singolo reclamo che dà l'idea di come sta funzionando l'azienda. Noi abbiamo un tema molto importante. Noi sul sito per esempio ora possiamo c'è il collegamento internet? Sì. Possiamo uscire un attimo dalla presentazione e andare su sul motore di ricerca se posso chiedere. Diciamo sul sito noi abbiamo messo anche alcune informazioni ma non per farci belli con i nostri dati ma per dare la giusta rappresentazione di quello che la nostra azienda fa è indirizzare correttamente i pazienti e rendere a Cesare o a Cesara quel che è di Cesare o di Cesara cioè il lavoro effettivo che fanno i professionisti. Lasciamo stare se non si trova non è un problema. Nel nostro sito per esempio c'è aggiornato mensilmente un questionario di gradimento somministrato ai pazienti ricoverati che si esprimono sulla qualità percepita dall'assistenza. a volte noi si finisce sul giornale o c'è la protesta di un singolo che dice vabbè è una situazione per esempio per casi di presunta mala sanità però secondo me va raccontata anche la buona sanità che era quella di filmati precedenti che era quella della voce della ragazza ti chiedo scusa non ricordo il nome di Lucia la voce di Lucia che sono esempi di buona sanità li dobbiamo raccontare per rendere merito allo sforzo dei professionisti per dire che è anche quello la sanità eccolo qui io una volta ero audito in una commissione non regionale sanità comunale illustro la nostro stato e l'arte in lista di attesa che è insomma è discreto rispetto a quella che è la media regionale la Toscana insieme all'Emilia Romagna e al Veneto insomma sono le tre regioni come sapete bene che insomma se la giocano e fra noi c'è anche una competizione diciamo non c'è via sana da questo punto di vista dopo che illustro lo stato dell'arte alza la mano questo medico medico di una certa età che conosceva la storia della nostra azienda e dice sì però io le devo raccontare che la qualità percepita dai pazienti dell'azienda ospedale ministeriale assenese è in caduta libera io non rispondo a questa sua sollecitazione chiamiamola così e proietto questo in realtà qui è il primo trimestre del 2024 io ho proiettato i dati del dicembre novembre 2023 e grosso modo le percentuali sono queste il 97% dei ricoverati diceva di aver ricevuto una qualità dell'assistenza ottima o buona possiamo tornare alla presentazione questo è il tema della comunicazione noi dobbiamo fare comunicazione con la informazione perché se non si capisce quello che noi facciamo è un problema e in questo il volontariato secondo me deve essere un nostro alleato al netto del fatto che esaminiamo periodicamente il monitoraggio quelli che sono i reclami a destra avete un po' di foto che riguardano eventi promossi con i donatori di sangue noi abbiamo un protocollo i donatori di sangue non è un foglio firmato una volta al mese incontriamo i donatori di sangue e discutiamo su come rendere il CET il centro omotrasfusionale a misura di donatore poi alcune cose che loro chiedono si possono fare l'ultima mi hanno chiesto se si potevano mettere le bruschette il vino insomma un po' di viveri io non sono un igienista ma appena senza guardare la direttrice sanitaria sono inorridito da me e le volevano mettere al CET e volevano ritornare a quella che era una prassi di 25 anni fa invece del buono per fare la colazione volevano tornare a festeggiare dentro il CET questo non si è potuto fare ma abbiamo fatto le aperture straordinarie sabato e domenica che non avevamo abbiamo reintrodotto anche la donazione per l'ultra sessantenni o meglio la valutazione per consentire anche a loro di donare non eravamo molto propensi ma l'abbiamo rifatto insomma tante iniziative e una cosa estremamente interessante a loro è venuta l'idea di promuovere un protocollo con i datori di lavoro pubblici e privati per sensibilizzare i lavoratori e nel caso dell'università gli studenti alla donazione quindi abbiamo sottoscritto un protocollo al Monte dei Paschi con l'Università degli Studi di Siena con il comune di Siena poi con il nostro Modena forse no ma Siena si se facciamo la top ten delle principali aziende sono quasi tutte pubbliche non sono quelle private qui ci siete anche voi noi abbiamo anche dei momenti in cui miglioriamo confrontandoci con gli altri anche sul tema dell'umanizzazione delle cure quindi qua c'è la foto qualche giorno fa quando ci avete onorato della vostra presenza a destra in altro ci sono i colleghi di Sassari dell'azienda ospedale universitaria di Sassari che volevano vedere come funzionava la discharge room e volevano capire come non ce l'avevano e volevano capire come funzionava e anche lì abbiamo un tema di umanizzazione delle cure e quello che invece vedete sotto la nostra famosa giornata di convolgimento di pazienti e volontariato che vorremmo presto fare l'11 di febbraio con i poster a destra delle varie progettualità noi lavoriamo anche sulla formazione abbiamo istituito un corso si chiama una marcia in più siamo partiti con i neoassunti per dargli gli imprinting oltre a fargli il corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro su che cosa è l'azienda come è organizzata come si impostano correttamente le relazioni professionisti e pazienti professionisti caregiver siamo supportati in questo dalla nostra struttura di psicologia che non si occupa solo di sostenere dal punto di vista psicologico i nostri pazienti i nostri caregiver ma stiamo allargando il suo raggio di azione anche sul tema della formazione ma anche su un altro aspetto sul benessere organizzativo lo diceva prima il dottor Vagnini ha fatto un rapidissimo cenno a questo la qualità delle relazioni fra noi condiziona la qualità delle relazioni con l'altro con l'altra parte con il paziente e con il caregiver quindi lavorare sulla qualità delle relazioni fra professionisti ha anche un effetto positivo in termini di qualità delle relazioni con i professionisti e poi abbiamo delle esperienze di pazienti esperti i pazienti esperti li abbiamo coinvolti formati coinvolti nel corso una marcia in più marcia in più noi presto è un corso che faranno anche le persone strutturate e assunte da tempo abbiamo deciso di partire da diciamo il materiale più fresco e per l'imprinting da noi assunti ma allargheremo ma abbiamo anche delle esperienze di pazienti esperti a Siena c'è il trapianto di cuore il trapianto di polmone siamo sede di questi programmi per l'intera Toscana e non solo e per i pazienti che sono in attesa di trapianto di cuore c'è il paziente trapiantato che insieme al cardiochirurgo al cardiologo allo psicologo prepara psicologicamente al trapianto il paziente che attende speriamo arrivi presto l'organo per poter essere trapiantato mi pare che adesso ci sia un video sì ora è rapido e qui in realtà sono delle pillole di altre cose che noi abbiamo fatto questo è il nostro desk all'ingresso dove diamo informazione sui servizi che garantiamo questo è il desk invece posso aiutarti in pronto soccorso dove abbiamo molto lavorato anche una delle principali critiche è il ticket quindi c'è il desk anche amministrativo spieghiamo il perché in alcuni casi si paga il ticket in pronto soccorso qua abbiamo sperimentato un sistema invece è un bastone che emette dei suoni che è parlante per gli ipovedenti o i ciechi e li guida in alcuni percorsi che noi abbiamo identificato ci sono delle mi viene il termine queste sono le carrozzine elettriche sono gettonatissime funzionava il servizio dalle dalle nove alle tredici lo stiamo per estendere dalle tredici alle venti perché sono sempre piene perché i professionisti li vanno a cercare proprio le persone da aiutare che hanno problemi di deambulazione li vanno a cercare questa è la sede del nostro comitato di partecipazione è all'ingresso dell'ospedale di fronte al bar all'edicola dove passano tutti e loro possono appunto darci una grossa mano nell'indirizzare questa è la sala d'attesa del pronto soccorso pediatrico dove c'è una lavagna touch screen e abbiamo cercato anche se lo spazio è un po' angusto di renderlo più a misura di bambino e di bambina qua stiamo sempre in disposto il pronto soccorso pediatrico fra l'altro da noi era fino a poco tempo fa H12 l'abbiamo nonostante le difficoltà di personale siamo riusciti a portarlo H24 con grandissimi sforzi questi sono dei disegni che hanno fatto dei bambini con problematiche insomma andiamo particolarmente ai fili di questi disegni insomma questo è lo spazio del pronto questi sono i nasi nasi che vengono da noi in ospedale insomma a rallegrare un po' i momenti soprattutto di insomma in ambito pediatrico questa è insomma la macchina elettrica ho capito ce l'avete anche voi se non ricordo male noi abbiamo l'Audi voi mi sa che ci avete un'altra marca insomma ma le nostre sono più veloci delle vostre ecco questo e consumano meno quindi i bambini vanno o in ambulatorio o in sala operatoria con queste macchinine e ci vanno in una maniera molto più più gradevole ah questa è la nostra TAC per gli adulti dobbiamo fare la versione per anzi la nostra TC per gli adulti dobbiamo fare la versione per pediatrica e qui insomma abbiamo come dire fatto largo uso della bellissima campagna toscana e in sala d'attesa abbiamo messo degli scorci di Siena compreso il Duomo il nostro ospedale si chiama Santa Maria della Scala probabilmente lo sapete la sede storica era di fronte al Duomo dove c'è la scalinata del Duomo dove c'è la scala del Duomo e quindi ecco perché il Santa Maria della Scala e qui abbiamo finito vi ringrazio per l'attenzione mi scuso se sono stato un po' troppo prolisso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti